Che cosa c'è da sapere sulla differenza tra agile team coaching e coaching aziendale o enterprise coaching? In questo video andremo ad approfondire le differenze tra due diverse figure lavorative ponendo attenzione sui diversi aspetti in cui si concentra il lavoro e in che modo aiutano le persone, i team e le aziende. Ma prima iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche che ti avvisa di nuovi video sul nostro canale e approfondisci inoltre altri video che parlano della figura di agile coach delle sue competenze, in che cosa consiste il suo lavoro e come si fa a diventarlo nella nostra playlist. Innanzitutto va detto che l'agile coaching è un approccio al miglioramento organizzativo quindi il focus di un agile team coach è quello di aiutare i team a portare maggior valore al cliente finale raggiungere i propri obiettivi, superare gli impedimenti e guidarli nella crescita. Per portare valore al cliente finale occorre che il team sia cross-funzionale e che il flusso attraversi l'intera organizzazione indipendentemente dal fatto che esistono dipartimenti aziendali. Un agile team coach è diventato tale perché ha maturato esperienza in ambienti di lavoro agile, ha sperimentato uno o più strumenti, pratiche e metodologie che rientrano sotto il cappello del mindset agile, ha svolto uno o più corsi di formazione e certificati che attestano anche le sue conoscenze e competenze come l'agile team coach masterclass che rilascia due certificazioni internazionali di International Consortium for Agile e del ICPATF, Agile Team Facilitation, e l'ICPACC, Agile Certified Coach. Però entriamo dunque nel merito dell'argomento di questo video. In Italia utilizziamo spesso i termini nella loro versione originale e inglese per cui avrai sentito parlare di Enterprise Coach e forse conosci qualcuno che fa questo mestiere. Ciò che differenzia un coach aziendale da un Agile Team Coach è da una parte il focus sull'implementazione di Agile nell'intera organizzazione e per questo lavora proprio con i team e dall'altra è quello di supportare i leader, i C-level, dirigenti, figure di responsabilità sempre nell'implementazione di Agile. Un Agile Team Coach lavora con i team con lo scopo di rendere autonomo il team conosce alcune metodologie lì in Agile che propone al team per poi lasciare che sia il team a scegliere quella che più risponde alle loro esigenze gioca a vari ruoli all'interno del team un Agile Team Coach è un facilitatore, un trainer, un coach evidentemente ma anche un mentor talvolta ma ha anche la capacità di risolvere impedimenti e conflitti che inevitabilmente possono sorgere tra gli individui sa sviluppare e guidare un team e soprattutto ha avuto esperienza in un ambiente lavorativo agile tuttavia ci sono molte cose che queste due figure hanno in comune e sono le competenze di coaching che sono essenziali per il mindset Agile per sviluppare team e individui lasciando a loro la responsabilità di trovare soluzioni e di sperimentarli perché è importante conoscere differenze e cosa invece accomuna queste due figure la metodologia lì in Agile di per sé non sono sufficienti a garantire il successo di una trasformazione lì in Agile oggi le organizzazioni vogliono diventare Agile perché vogliono entrare nell'era della business agility perché la business agility è la nuova frontiera di Agile e per l'organizzazione adottare Agile in tutte le sue parti significa fare business in modo agile tramite l'apprendimento organizzativo continuo e costante e la sperimentazione sempre continua e costante diventa una forma di sperimentazione permanente questo rende l'organizzazione estremamente adattiva capace di creare innovazione continua e di evolvere rapidamente per questo occorre un business agility coach in grado di introdurre una visione sistemica di come funziona l'organizzazione nel suo insieme un business agility coach conosce molteplici approcci metodologici ha accumulato esperienza in sperimentazione di progetti pilota e una conoscenza più ampia di come funzionano le organizzazioni ha la capacità di far lavorare team per rendere visibile il lavoro end to end di identificare le metriche essenziali per misurare questo lavoro e di far individuare al team le attività valore e quelle che invece non hanno valore come quindi eliminare gli sprechi e ridisegnare il flusso delle attività che portano valore al cliente finale in ottica Agile molto spesso si parte da uno o più progetti pilota attraverso il quale il team o i team più team insomma creano il cosiddetto modello operativo proprio dell'organizzazione cioè quindi creato all'interno di un'organizzazione con le caratteristiche di quell'organizzazione ed è da dove si parte poi per scalare Agile in tutta l'organizzazione dove si apprende tutto questo? l'acquisizione di queste conoscenze è possibile attraverso il percorso di business agility as a service è una serie di video tutorial online che si possono svolgere in qualsiasi momento accedendo alla piattaforma di e-learning partendo dalla conoscenza dei fondamentali della business agility si passa alla sperimentazione di tutti gli step che compongono il pilota attraverso però la pratica questo è un punto essenziale perché Agile si può comprendere attraverso delle video lezioni come quelle che stiamo facendo ma si può apprendere soltanto mettendolo in pratica ed è questa l'idea facciamo un video tutorial per spiegare passo dopo passo come effettivamente si mette in mano ai processi ma di quale tipo di coaching hai bisogno tu? dipende sicuramente dall'approccio che hai scelto hai bisogno di supportare e si leva le figure di responsabilità dirigenti nei nuovi ruoli e responsabilità? allora probabilmente ti serve un coach esberto in executive e business coaching hai bisogno di aiutare il board a prendere decisioni? beh, ti occorre un buon team coach molte organizzazioni hanno iniziato nell'implementazione di una metodologia agile e quindi hanno utilizzato agile team coach che supportano l'implementazione della strategia scelta per implementare agile vicini ai team e alle attività lavorativi di tutti i giorni ma se vuoi capire come diventare business agile allora ti consigliamo di affiudarti ad un business agility coach esterno che ti aiuta a comprendere i passi di una sperimentazione pilota come si costituisce il team di sperimentazioni quale competenze sono necessarie come si mappa e si agisce sul processo di lavoro in modo agile solo successivamente formare quindi agile team coach interni all'organizzazione persone che attraverso la formazione acquisiscono delle competenze che sono necessarie a guidare i team e supportarli nel raggiungimento dei loro obiettivi e a migliorare le loro prestazioni vuoi parlare con un business agility coach e ricevere consigli sul percorso di implementazione agile che fa il caso tuo e della tua organizzazione beh, mettiti in contatto con noi e ti illustreremo la roadmap per la business agility personalizzata in base alle tue esigenti e al livello in cui ti stai trovando contattaci utilizzando il link in descrizione e fammi sapere se questo video ti è stato utile a presto grazie a tutti